In Italia sono in lieve aumento nelle ultime settimane i casi di Covid-19. In base ai dati dell'ultimo bollettino settimanale sul monitoraggio Covid nel periodo dal 27 giugno al 3 luglio sono stati registrati 3.855 nuovi casi, numero in rialzo rispetto ai 2.505 della settimana precedente. La variante JN1 e i suoi sottolineaggi rimangono predominanti. In particolare l'aumento dei contagi sembra essere legato alla sottovariante KP3.